Lo scenario è incantevole, le adesioni sono numerosissime, si preannuncia una grande festa di sport, divertimento, spettacolo, intrattenimento e socializzazione. Trani è pronta per la due giorni tricolore, sarà la perla dell'Adriatico, oggi e domani a vestire i pani di capitale italiana dell'atletica leggera. E' stata presentata questa mattina a Palazzo San Giorgio l'undicesima edizione della Trani in corsa Tommaso Assi Half Marathon, quest'anno valida come campionato nazionale master di mezza maratona, individuale di società. La grande famiglia da Tommaso Assi ci ha lavorato su un anno con tutti i suoi tesserati e non per un evento che porterà, come si diceva prima, oltre 4.500 persone in piazza. Dobbiamo intanto ringraziare tutti i dirigenti che operano nel settore dello sport perché sono capaci di poter organizzare manifestazioni di questo genere. Con questa Trani in corsa oggi va in scena una manifestazione che raggrupperà quasi 5.000 unità nelle tre manifestazioni. Permettetemi di ringraziare l'amministrazione comunale che da subito ha trasformato quella che può sembrare una promessa politica in fatto concreto. L'anno scorso avevamo proposto di portare qui i campionati italiani, il sindaco aveva promesso che ci avrebbe sostenuto, ci avrebbe mantenuto tutto quello che serviva per poter portare all'organizzazione e oggi si contrattizza. Una scommessa vinta, lo avevamo detto un anno fa, avremmo fatto di tutto per portare i campionati nazionali di mezza maratona qui a Trani. Ci siamo riusciti grazie a una grande sinergia, dal presidente del CONI, Giliberto che ringrazio, a quello della FIDAL Puglia, a Giacomo Leone, ad Antonio Rutigliano, alla Tommaso Assi, in particolare a Gianni Assi, con i quali siamo riusciti veramente a creare una grande sinergia e far sì che domani a Trani si possa veramente svolgere una grandissima giornata di sport. Siamo pronti, lo siamo sempre stati, siamo a fianco di tante associazioni che ci daranno una mano, ma soprattutto con una meravigliosa organizzazione di FIDAL Puglia e soprattutto della Tommaso Assi. Articolato si presenta il cartellone dell'evento, si parte nel pomeriggio alle 17.30 con la Junior Trani Race aperta ai ragazzi delle scuole elementari, stasera spazio alla Trani Night Run, la gara competitiva di 5 o 8 km aperta a tutti, il clou invece sarà domani alle ore 9 con la mezza maratona tricolore, già allestito il villaggio dell'Atletica in Piazza Quercia. Se non ci fossero tutti i ragazzi della Tommaso Assi questo evento non poteva essere realizzato perché ripeto portare 4.500 persone per tutta Trani ovviamente richiede uno sforzo importantissimo. Detto questo c'è stato un sostegno come ogni anno importantissimo da tutta la associazione di volontariato, del comune di Trani, dei vigili urbani che chiaramente faranno un lavoro anche quest'anno in mano, di tutte le forze dell'ordine che contribuiranno a questo e se non funzionano tutto quanto in maniera perfetta così come un'orchestra ripeto portare quasi 5.000 persone per strada diventa davvero difficile. Per il fine settimana insomma lo spettacolo con l'Atletica a Trani è assicurato.